Il formaggio è felice tra le dolomiti trentine è partita la seconda edizione di Happy Cheese, nove giorni di appuntamenti e manifestazioni in cui il protagonista è la produzione casearia trentina. Fino al 14 marzo i luoghi di produzione di formaggi dal carattere forte e dal sapore autentico come il Cher de Fascia, il Fuzione di Moena Dope, il Primiero, il Forma e Val di Fiemme diventano una meta imperdibile per gli amanti del genere. L'intero programma link www.stradadeiformacci.it